Buonasera a tutti cari amici, cari amiche, benvenuti, bentornati su Penelope e le sue carte. Eccoci di nuovo insieme con un nuovo video interattivo. Questa sera ho deciso di usare le mie splendide sibilline, queste sono proprio le sibille chiacchierine, sono proprio pettegole, lo vedrete, lo vedrete, io le chiamo le pettegole, sentiamo le pettegole cosa dici, perché chiacchierano, spettegolano, danno diciamo così dei piccoli dettagli, delle cose, quindi io come vedrete siccome avrò bisogno insomma di diverse carte per fare i tre mazzetti non ho potuto già prepararli perché insomma altrimenti poi non posso ampliare, insomma va bene. Quindi ho buttato giù una carta per voi, vedete i tre mazzetti, adesso andiamo ad identificarle insieme, prenderò la mia scatolina magica, eccola qui e andiamo a scegliere, andiamo a scegliere un oggettino da mettere sui mazzetti, ma volevo prima spiegarvi che sceglierete i tre mazzetti e poi andremo a vedere come dicevo con le sibille che cosa mi dicono, andiamo a vedere un pochino ad approfondire la carta maestra. Queste carte, questa stesa risponde alla domanda avrò un amore, troverò un amore, conoscerò un nuovo amore, insomma vedetela come vi pare. Praticamente andiamo a vedere se ci sono delle novità, se c'è l'ingresso di un amore nella nostra vita, poi se sarà nuovo o vecchio o nessun amore ve lo dirò strada facendo naturalmente, va bene? Quindi concentratevi, andiamo a vedere adesso, apriamo la scatolina magica, andiamo a scegliere un oggettino da mettere sui mazzetti. Allora vediamo, spatoliamo un po', tanto per trovarne uno che c'è qua, il pesciolino, eccolo qua, questo è un pesce, non so se si vede bene, spero di sì, ve lo faccio vedere. Il pesciolino lo mettiamo qua, poi, cosa è questa? Questa è la chitarra bianca, la mettiamo qua, e poi e poi cosa c'è qui? La barchetta, ecco, questa è la barchetta rossa, ok? La mettiamo qua, 1, 2, 3, ok? Quindi barchetta, chitarra, pesce. Fate, fate la vostra scelta e poi andrò con le sibille a rispondere in modo esatto alla vostra domanda. E vi ricordo nel frammento, se foste interessate ad avere informazioni per un consulto privato, potete scrivermi sia al mio indirizzo di posta elettronica, lecartedipenelopechiocciolagmail.com, sia su Messenger di Facebook, mi trovate come lecartedipenelope. Se dovesse interessarvi, sono presente anche su su Instagram, mi trovate come Penelope le sue carte. Naturalmente, non dimenticatevi di iscrivervi qui sul canale YouTube, naturalmente. Va bene? Bando alle ciance, ne ho parlato fin troppo. Andiamo a vedere se c'è l'entrata nella nostra vita di un nuovo amore. Andiamo. Allora, eccoci qua. Andiamo a vedere la barchetta rossa, se ci porta un nuovo amore. Andiamo a vedere. Questa è la nostra carta. Qui c'è questa ragazza splendida. Non sembra felicissima, a dire il vero, eh? Non sembra felicissima. Vedete, si sta facendo qui una tazza, non so se di zuppa, di camomilla, di brodo caldo, diciamo così. Quindi è una donna che in qualche modo si deve rimettere in piedi, si deve riassestare, deve guarire da qualcosa, va bene? Quindi non sta benissimo. Non sta, non sta benissimo. Non è moribonda, però diciamo che si sta prendendo cura di se stessa. Quindi già qui le carte ci stanno dicendo c'è qualcosa che non va, c'è un qualcosa che non ti fa stare bene. Ti vedo un po' in crisi. Quindi qui c'è un qualcosa che la persona in questione, cioè voi, deve, deve superare. Ok? Ok? Prenditi cura di te. Teniamo a mente questo. Adesso andiamo a vedere le nostre pettegole, le nostre chiacchierine. Che cosa ci dicono? Se ci promettono un nuovo amore. Quindi vediamo se c'è l'entrata nella nostra vita di un nuovo amore. Vediamo. Ops. Non avevo dubbi. Non entrano? Non entrano? Possiamo pure fare così. Vediamo un po' se così le vedete. Ok, credo di aver capito. Credo di aver capito che qui, altro che nuovo amore, qui ce n'è di già. Qui c'è già. Cioè ci sono anche i problemi sinceramente. Nel senso che, allora qui vi vedo con una storia stabile. Quindi o un matrimonio, un fidanzamento, un qualcosa quantomeno che dura da tempo. Qui c'è un qualcosa che già c'è, che dura da tempo. E ricordiamoci, ricordiamoci di questa carta qui che ci dice, qui c'è crisi, ci sono dei problemi. C'è un qualcosa che non va. E infatti qui le carte mi confermano la carta maestra. Cioè cosa ci dicono? Ci dicono che qui c'è una situazione che non sta andando come dovrebbe andare. Una situazione che ci dà malinconia, che ci dà tristezza. Una situazione alla quale pensiamo molto, che ci dà pensiero, ma ci dà pensieri tristi. Perché? Perché qui potrebbe sicuramente essere che ci sia la presenza di un uomo, la presenza di un uomo che ci piace, che ci fa stare bene, ma che, come posso dire, ci dà malinconia. Quindi, come dire, non lo posso avere per me. Ora, il perché, non lo so, potrebbe pure essere che quest'uomo sia sposato, visto che qui c'è una casa. Quindi, o è lui che è sposato, o magari anche voi che avete una casa. Diciamo, o semplicemente questo uomo, forse perché c'è a casa, forse perché semplicemente un lavoro, non vuole un discorso stabile. Insomma, diciamo che qui ci sono dei cambiamenti negativi. Quindi qui c'è un uomo che tende ad allontanarsi da noi invece che arrivare. Cioè, qui non vedo una situazione in cui non c'è niente, non arriva niente, siamo sole, non c'è niente. Tutt'altro. Qui un uomo nei nostri pensieri c'è che ci piace da morire. Cioè, qui ci piace da morire, che però ci fa girare un po' le scatole. Ecco, questo sì, ci fa girare un po' le scatole. Quindi qui, diciamo, tutto st'amore non lo vedo. Nel senso, ripeto, una presenza c'è. Non mi meraviglierei se aveste anche un discorso matrimoniale proprio voi in crisi. In crisi. Va bene? Quindi qui potrebbe benissimo essere che siate pure voi, pure voi, diciamo, sposate o quantomeno con una relazione duratura che però non va, che non va. Ma anche, siccome siamo in molte e stiamo parlando in modo molto molto generico, anche la presenza sì di un uomo che ci piace, con cui ci sentiamo, con cui usciamo, con cui facciamo, diciamo, ecco, con cui facciamo baldoria, mettiamola così. Che però non ci garantisce, non ci dà quella sicurezza, quell'affidabilità e quella stabilità che noi vorremmo con conseguenti pensieri cupi tristi per colpa di quest'uomo. Quest'uomo che è pure belloccio, aggiungo io, ci piace molto. Quindi qui diciamo che siete, per rispondere alla vostra domanda, un nuovo amore non nel senso perché c'è di già, qui c'è già una persona che ci piace, che però ci mette un po' in crisi, non ci fa felici perché non ci dà quello che noi, quello che noi vorremmo, diciamo. Quindi qui ecco, una conoscenza, un amore, una situazione affettiva in crisi, in crisi che sta cambiando. Qui c'è un qualcosa che si sta trasformando, che sta cambiando, ma non in meglio, nel senso qui c'è un cambiamento che ci dà malinconia, ok? Allora, eccoci giunti alla chitarrina. Vediamo un po' la chitarra, che cosa ci dice. Questa è la vostra carta. Allora, qui ci sono delle decisioni da prendere, ma c'è anche qualcosa che cambia. Qui c'è un cambiamento in positivo anche molto molto veloce. Comunicazioni, velocità. Qui ci potrebbe essere veramente la conoscenza di qualcuno, eh? Però calma, andiamo a vedere adesso le nostre chiacchierine. Che cosa dicono? Vediamo se entrerà a breve, ovviamente, eh? A breve un amore nella nostra vita. Vediamo. zitta, 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 aspettiamo. Mamma mia, mamma mia, che carte! Oh, signore, me ne ho detto! Dai, devo essere seria, non posso fare questi versi, lo so, però sono troppo belle. Yes, sono troppo, troppo, troppo belle. Allora, dunque, qui sì. Qui c'è una conoscenza, eh, bambine. Io ve lo dico, però... Allora, qui c'è... A breve. Qui, come vi dicevo, secondo me è un discorso a breve. Qui non c'è da aspettare tanto. Qui c'è un amore in arrivo, però io non ci vedo l'arrivo di una persona nuova che piomba dal cielo. Qui, secondo me, c'è il ritorno di qualcuno. Qui c'è il ritorno di qualcuno. Ci vedo il fare l'amore, ci vedo il sentirsi, ci vedo il vedersi. Guarda, non mi meraviglierei fossero due. Due, insomma. A chi troppo e a chi niente, vero? Dai, sto scherzando. No, veramente, a parte gli scherzi, qui già la carta me lo promette. Già me lo prometteva, quindi già mi dice, guarda, qui c'è un qualcosa anche abbastanza veloce, una passione, un sentimento, un wow, un desiderio, un fuego. Qui c'è proprio il fuoco. Qui c'è fuoco, c'è desiderio, c'è sesso. C'è proprio attrazione, c'è un rivedersi. Qui c'è un incontro con qualcuno che già conosciamo, con cui già abbiamo avuto a che fare. Qui ci rivediamo, rifaremo l'amore insieme. Mi direte, dov'è il ma o il però? Perché c'è sempre un ma e un però. Ed in effetti c'è il ma e il però. È una piccola cosa. Nel senso, qui magari cadrà un pochino l'asino. Quando si andrà a parlare di progetti? Vabbè, lo vedremo in un secondo momento. Perché qui le carte mi parlano di velocità, visto e preso, subito, immediatamente. Ovviamente, questo è un uomo che sarà molto attratto da noi. Questo è proprio un signore. Nel senso ci affascina, ci conquista, con i modi. Sai quei modi dal galantuomo? Ecco. Quindi qui la persona sarà anche presa da noi. Qui non ci sono dubbi. Quando vi dico sono belle, sono belle. Ecco, l'unica cosa, la progettualità lascia un pochino a desiderare. Però magari lo vedremo in un secondo momento. Qui, quando si arrivano ai progetti, sai, progetti per il futuro, progetti un pochino più. Insomma, comunque, qui una passione è garantita, è assicurata. Qui c'è un uomo che incontreremo, con cui finiremo a letto. Un uomo molto preso da noi. Secondo me, però, non è una persona nuova. Questo è un ritorno, un rivedere, un tornare. Insomma, di qualcuno. Di qualcuno. Persona molto presa da noi, per l'amor di Dio. Questo è boh, ma sicuro. Quindi carte molto, molto belle. Poi, sulla progettualità, insomma, voglio dire, io lo vedremo. Io non escludo che siano due uomini. Io ce ne vedo due. Io qui ci vedo due uomini. Quindi qui sarete voi femminucce a divertirvi, diciamo, un po' di più. Insomma, un po' di par condicio, non fa male. Quindi, insomma, buon divertimento. Vi ripeto, è un discorso veloce, secondo me veloce. Quando parlo di veloce o di tempi, io parlo dal momento in cui voi vedrete questo video. Ok? Quindi, se anche lo vedrete fra cinque anni o fra dieci, non importa. È quello il momento in cui questo messaggio deve arrivarvi. D'accordo? Quindi, da quando lo vedrete, insomma, io vi vedo una cosa proprio boom, boom, boom. Non mi meraviglierai se accadesse tutto questo in un momento, in un viaggio, durante uno spostamento. Non so, fate un piccolo spostamento per andare da qualche parte a una cena, a una sagra, a un locale, per uscire, diciamo. Ecco, e lì potreste incontrare Tizio. Incontrare Tizio, rivedervi, bla, bla, bla. Capito? Come potrebbe essere proprio un appuntamento. Comunque, io vi vedo in intimità con questa persona, quindi un rinfiammarsi, diciamo, con quest'uomo. Non credo sia persona nuova, va bene? Quindi, che dirvi? Vivetevela. Buon divertimento. Eccoci qua, giunti infine al mazzetto del pesciolino. Vediamo un po' questo pesce. Ecco, il pesciolino muto mi tira fuori questa carta. Come vedete qui c'è una donna che è, come posso dire, raggomitolata in se stessa, vedete? In posizione fetale, si può dire. Quindi già questo mi dice che qui siamo chiuse, siamo chiuse, siamo chiusi al mondo, siamo chiusi agli altri, siamo soli, ci isoliamo. Quindi già questa carta mi parla di solitudine, che poi può essere solitudine, per l'amor di Dio, ricercata. Perché qui, diciamo, ci parla di saggezza. Quindi potrebbe essere veramente che siamo in un momento, perché ovviamente qui parliamo di momenti con le carte. Non è che io con un giro di carte interattivo vi dico tutta la vostra vita. Se io con un giro di carte vedessi tutta la vita intera, io non le farei più, perché avrei paura ad aprirmele anche per me. Quindi questo sia chiaro. Detto questo, qui c'è solitudine, solitudine che potrebbe anche essere voluta, magari per colpa di una delusione, per colpa chissà di cosa, ma anche senza colpe. Semplicemente siamo sole. Quindi qui già la premessa della carta maestra non è di amori o di leggerezze o di cose. Insomma, questa è una carta molto molto profonda, che parla di saggezza, di consapevolezza. Quindi secondo me qui c'è una solitudine ricercata, cioè consapevole, come dire sono sola perché ci voglio stare io sola. Ecco, ok? Comunque andiamo a vedere queste chiacchierine, queste pettegole che cosa ci dicono se vedono arrivare un amore per noi. Quindi al momento io qui credo che la persona interroga le carte, cioè te, voi, ok? Che siate soli, che siate single o quantomeno così vi sentite. Andiamo a vedere se c'è in arrivo nella nostra vita di un nuovo amore. Allora, vediamo un po'. Ne vedi? Mamma mia le carte, guarda, a volte fanno, a volte fanno veramente paura. A volte proprio mi lasciano, mi lasciano, cioè a volte, sempre. Vediamo se le vedete, voglio le vediate anche voi. Allora, guardate a me, io secondo me queste carte confermano la carta maestra, nel senso che qui c'è una donna, una donna che magari aveva un legame. A parte vi posso vedere anche come donna con figli, eh? Con una donna con figli. Guarda, qui ci potrebbe essere o essere stato, essere stato, un inizio di un qualcosa, diciamo un'amicizia, quindi un qualcosa che si è rappresentata in un modo, in un modo puro, pulito, capito? Quindi un qualcosa che era iniziato con tutti i buoni presupposti, di purezza, diciamo, capito? Cosa voglio dire? E poi invece la persona magari se ne è sparita. Quando si dice, no? Uno che sparisce come un ladro, che viene, si intruffola nella nostra casa, se ne va, ci abbandona, così, senza un motivo apparente. Quindi qui vedo, non ci vedo storie, qui ci vedo magari che c'è stata, che c'è stata una, c'è stata già una storia che era partita, diciamo così, in un certo modo, no? Magari noi volevamo, diciamo così, un impegno. Vedete la saggezza, la profondità di questa carta? Questa non è una carta che vive di passioncine, di incontri furtivi, eccetera. Questa è una carta profonda. Quindi qui dietro c'è una persona che cerca la profondità, la serietà, la consapevolezza in un rapporto, non si accontenta di... Ecco, ok? Quindi qui ci potrebbe benissimo essere stata una persona che si è intruffolata nella nostra vita, ci ha fatto credere i mari e i monti, e poi invece se ne è andata. Se non è già successo, io sto parlando al passato per le carte che vedo, come se fosse già accaduto, secondo me è già accaduto quello di cui vi sto parlando. Se non fosse accaduto, ma non credo, occhio perché potrebbe accadere. Quindi attenzione. Ma ripeto, io qui ci vedi passato. Quindi qui c'è un qualcosa che ci ha fatto male e come dire oggi ci fa dire, sai cosa? Sto bene sola. Ecco. Quindi questo è il riassunto, diciamo così, di ciò che vedo. Quindi una persona che mi ha fatto male, mi ha fatto credere questa cosa. Io volevo un impegno, volevo purezza, volevo sincerità, volevo onestà, e bla bla bla. Questa persona non me l'ha data, non è stata in grado di darmela. Ho chiuso, ho sofferto, basta, sto bene così. Capito? Ecco. Quindi, diciamo, io qui ci vedo, io qui ci vedo, quindi fra le persone che hanno scelto questo, come si chiama, questo, vediamo se si vedono bene, questo mazzetto. Qui ci vedo una persona molto, molto profonda, molto, molto pulita. Non voglio dire ingenua, ma anche sì. Ok? Questa è una donna che non vede il male negli altri perché non ce l'ha in sé stessa. E purtroppo il male nel mondo invece, invece c'è, comunque non la voglio fare troppo drastica, drammatica, per l'amor di Dio. Voglio dire, muore nessuno. Fatto sta, diciamo, ecco, per il momento qui nuovi amori, nuovi flette, nuove fiamme, nuove cose, se io non le vedo. Per ora, come dire, mi devo rimettere in sesto, devo guarire da questa scottatura, vedremo più in là. Per adesso sto bene così. Ok? Quindi io questo ci vedo da queste carte. Allora, mi raccomando, fatemi sapere come sempre, ragazze e ragazzi, e ragazzi, mi rivolgo anche a voi maschietti, naturalmente. Quindi, fatemi sapere dai commenti se vi ci ritrovate, cosa succede, insomma, magari anche nel tempo, vedete di ritrovare il video in questione, datemi i riscontri, eh? Perché questi servono sia a voi, sia a me. Ok? Quindi io spero, innanzitutto, vi ringrazio naturalmente di avermi seguito nuovamente, vi invito ad iscrivervi al canale, mi raccomando, vi aspetto, vi aspetto al prossimo video, nel frattempo, naturalmente, vi bacio, vi abbraccio, gioia e amore ad ognuno di voi, sempre, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima!